Gara 1 dell'Euro Formula Open a Monza, partenza dalla pole position di Harrison Scott che mantiene la posizione nei confronti di Nikita Trujci che viene attaccato anche da Janne Spitti e nuovo ingresso nel team RP Motorsport dalla seconda fila, riesce dunque il tedesco ad avere la meglio sul russo, si mette in protezione del compagno, spilano senza problemi i piloti alla prima curva con Scott che vola in solitaria, un'uscita di Iorio in Lesmo 2 in Noqua per il pilota di casa Campos, un po' di drifting qui a Monza, l'attacco poi di Trujci nei confronti di Fittie che però riesce a riportarsi all'interno del pilota di casa RP che però scivola in lotta anche con l'Axonen solitaria, invece la nona vittoria stagionale di Harrison Scott che vola solitario alla conquista della leadership sempre più sua di campionato, la bandiera Scacchi che saluta la nona vittoria stagionale, un passo in più verso il titolo, la gioia di RP Motorsport che vede anche Janne Spitti conquistare il terzo gradino del podio, secondo a sandwich tra due e di RP, Nikita Trujci vincitore della classifica Ruki un'altra volta, non mancano le emozioni nel finale col contatto in parabolica per fortuna senza problemi e la gioia appunto di RP Motorsport per questo clamoroso successo di Harrison Scott con 6 secondi e 4 di vantaggio. Grazie a tutti!